Ciao amici di MTB Mag, ben trovati anche questa settimana con un nuovo Video Tech Corner. Quest'oggi ci occupiamo di un argomento basilare, ma allo stesso tempo estremamente importante e che sarà sicuramente utile a molti. Ci occuperemo di regolazione del cambio ed in particolare ci occuperemo della regolazione dei cambi Shimano a 12 velocità, quelli che sono estremamente diffusi ormai su quasi tutte le biciclette nuove. Prima di entrare nel video dell'argomento però voglio ricordare a tutti i fan o comunque tutti quelli che vogliono sostenere il nostro canale che è possibile abbonarsi, il costo è veramente piccolo, meno di 2 euro al mese e con questo piccolo contributo supporterete il canale e ci aiuterete nella realizzazione di questi video. Al pari dei cambi SRAM anche su Shimano è molto molto importante la corretta lunghezza della catena. Quindi prima di iniziare con la regolazione del cambio dobbiamo sempre accertarci che la catena sia della giusta lunghezza. La regola che si utilizza su Shimano è simile a quella di SRAM. Si mette la catena sul pignone più grosso e sulla corona, la si congiunge senza far passare nel cambio e si aggiungono 2 maglie o meglio 4 semimaglie. Allora, in primis, quando si regola un cambio la trasmissione deve essere sempre pulita, quindi niente polvere, niente fango, niente sporco e la catena deve essere correttamente lubrificata. In secondo luogo è molto importante verificare alcuni parametri prima di metterci a regolare il cambio. La prima cosa che dobbiamo controllare è che il cambio sia stretto, i cambi tendono ad allentarsi, se si svitano perdono la regolazione. Quindi, prima cosa, cambio stretto, seconda cosa, verifichiamo che il cambio, il forcellino, siano dritti. Se il forcello è storto non riusciremo a regolare il cambio, se il cambio è svitato non riusciremo naturalmente ad ottenere un risultato che duri nel tempo perché poi continua a svitarsi e perde la sua regolazione. Sul cambio notiamo che ci sono due viti appagliate e nella parte posteriore c'è una terza vite. Allora, queste viti qua su Shimano si azionano con una chiave a brugola da 2 mm. Identifichiamo subito, come parte importanti per avere la nostra regolazione, questa vite qua, che è la vite di regolazione della distanza, distanza tra cosa? Tra il cambio e il pacco pignoni. E le due viti di fine corsa, con la vite di fine corsa inferiore, quindi quello sul pignone più piccolo, che è posizionata davanti, mentre nella parte posteriore del cambio troviamo la vite che regola il fine corsa superiore, quindi nella parte più alta sul pignone da 51. Come capire quali sono le due viti, oltre che seguendo le istruzioni? Sulla posizione più piccola, il fine corsa, la linguetta che regola il fine corsa è appoggiata sulla vite anteriore. La vite del fine corsa superiore lavora nel vuoto, quindi questa linguetta dovrà salire e andare a contatto. Il registro che invece lavora sulla regolazione della tensione del cambio si trova qui, si trova sul manettino, ed è questo registro che può essere svitato o avvitato. Questo qui si chiama tensionatore. Che cos'è un tensionatore? È semplicemente una vite che tira il cavo o lo fa accorciare. Come funziona? Se noi svitiamo, quindi giriamo in questo modo il registro, svitiamo la vite, il percorso della guaina si allunga e il cavo viene tirato. Quindi svitando tiriamo il cavo, avvitando lo accorciamo il percorso e quindi rimane più morbido. Quindi svitiamo per aumentare la tensione, avvitiamo per ridurre la tensione. Tutti i cambi moderni da MTB hanno un solo tensionatore posizionato all'uscita del manettino. Innanzitutto, per regolare il cambio, bisogna determinare il tensionamento del cavetto. Quindi che cosa si fa? Si posiziona il cambio completamente scarico, col manettino completamente scarico, sul pignone più piccolo. E si stringe, adesso ve lo faccio vedere, il cavetto in modo che sia appena appena in tensione. Deve essere morbido, deve essere il cambio appoggiato sul suo fine corsa, ma il cavo non deve avere un eccessivo gioco. Questa è la posizione di partenza per la nostra regolazione. Determinato quindi, ipotizziamo che il nostro cambio sia già stato montato e siamo già in una situazione più avanzata come in questo caso, la prima regolazione che dobbiamo fare è quella del fine corsa inferiore. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo agire sul registro più avanzato, in modo da allineare il cambio, vedete che si muove, allineare il cambio con il pignone più piccolo. Facciamo girare la ruota e avvitiamo o svitiamo, vedete? Se avvitiamo eccessivamente la catena tende a salire, noi svitiamo fino a che non troviamo il giusto compromesso per cui la catena non cade al di sotto del pacco pignoni e non tende a salire sul pignone superiore. Determinato il fine corsa inferiore, andiamo a regolare la tensione del nostro cavetto come andando davanti sul manettino a svitare o avvitare il registro fino ad ottenere una corretta cambiata tra il primo pignone e il secondo e i successivi. Cosa facciamo? Adesso cerco di sregolare un pochettino il cambio perché funziona abbastanza bene. Proviamo a fare uno scatto. Notiamo che il cambio sale ma non è così preciso, fatica leggermente. Cosa facciamo? Aumentiamo leggermente la tensione del cavo fino a non che otteniamo una cambiata perfetta. Dopo il primo pignone proviamo sui pignoni superiori, vedete che qui notiamo che fatica ancora leggermente e quindi incrementiamo ulteriormente la tensione. Facciamo muovere il cambio su tutto il nostro pacco pignoni. Sentiamo qui che cosa sentiamo? Forse voi lo sentite tanto ma notiamo che la catena striscia leggermente, striscia sul pignone superiore, tende insomma, vedete un pochettino a salire. Adesso sto amplificando il movimento. Cosa facciamo in questo caso? Vuol dire che il cavo è troppo tirato, avvitiamo leggermente il registro fino a che questa rumorosità sparisce e la cambiata ritorna efficace sia a scendere che a salire. Ne è terminato quindi un corretto tensionamento di massima, qui non dobbiamo essere estremamente precisi perché andremo poi ad affinare successivamente la regolazione. Con delicatezza, vedete che qui fatica ancora un po' a salire, perfetto, aumentiamo un po' la tensione. Con delicatezza saliamo sull'ultimo pignone, con delicatezza perché dobbiamo ancora intervenire sul registro di fine corsa superiore. Con la catena posizionata sul pignone superiore è giunto il momento di regolare il fine corsa. Come si regola il fine corsa? Beh, con la nostra brugola da 2 mm andiamo a registrare il punto di arresto superiore del cambio in che modo? In modo che la cambiata tra il penultimo e l'ultimo pignone sia consentita, ma che se anche andiamo a forzare la cambiata come sto facendo adesso, la catena non deve assolutamente e mai cadere dal pacco pignoni. Vedete? Io sto forzando la cambiata, ma il cambio si ferma e la catena non cade dal pacco pignoni. Che cosa succede se il registro è regolato male? Beh, se è troppo avvitato, adesso vi faccio vedere, lo avvitiamo un po' più del dovuto, se è troppo avvitato non riusciremo a far salire la catena sul pignone più grosso. Se invece è troppo svitato e qui non ve lo faccio vedere, visto che la bici è nuova e non voglio rovinare i raggi, cosa succede? Il cambio si muove troppo verso l'alto e la catena cade tra la cassetta e i raggi. È molto importante che questo registro sia regolato correttamente, poiché spesso causa delle rotture del cambio e proprio la catena che cade nei raggi e tutto che viene trascinato dalla ruota provoca la rottura del cambio, la rottura della catena o dei raggi. Quindi il fine corsa superiore è molto molto importante. Per regolare correttamente la distanza del pacco pignoni dalla puleggia superiore del cambio, per Shimano non si utilizza nessuna Dima. Tuttavia c'è un'indicazione nella parte posteriore del cambio, questa indicazione è posizionata, è un'incisione che è posizionata in questa zona qui, vedete questa stanghettina qua. Adesso cercherò con la telecamera di zoomare ulteriormente per cercare di essere un pochettino più preciso. Vedete, vediamo se mantiene lo zoom, ma, oppla, adesso abbiamo perso un attimo, ma se notate, vedete questa stanghettina qui, adesso ve la indico con la chiave, questa stanghettina qua è proprio l'indicazione della distanza che deve esserci tra la puleggia, questa qua, e il pignone superiore, quindi il pignone deve passare a filo di questa lineettina qua. Adesso notate che, allora, innanzitutto la regolazione va fatta con la catena sul pignone più grosso, quindi con il cambio praticamente, quanto più tirato possibile. Adesso vado un po' indietro così si vede meglio. E va, dobbiamo agire sulla vite di regolazione a distanza, avvitando o svitando all'occorrenza, fino a che questa linea non combacia con il profilo dei pignoni. Quindi, adesso vediamo se riesco a mantenere la luce qui. Interveniamo sulla vite di cui vi avevo parlato prima, andandola a, vedete, svitare per avvicinare il cambio. Avvitare se lo vogliamo distanziare. In questo caso, credo che in questo modo abbiamo fatto la distanza regolata correttamente così, vedete, col dente che combacia con la linea scavata all'interno della gabbia del cambio. Che cosa dobbiamo fare ultimamente? Ora che tutto è regolato correttamente, andiamo a fare l'ultima fase di regolazione della tensione, quella, diciamo, di fino. Solitamente, se prima riscontravamo dei problemi di cambiata, regolando correttamente la distanza, questi di solito sono quasi già risolti, e possiamo procedere con la fase di regolazione di fino. In questa fase cosa facciamo? Andiamo anche ad inserire la frizione, in modo da trovarci nella situazione più critica, più difficile per la cambiata, e andiamo a verificare se è necessario intervenire aumentando, riducendo la tensione del cavo, fino a che non otteniamo una cambiata omogenea e precisa, come in questo caso, su tutta la gamma di rapporti. Facciamo anche degli stress test, in cui effettuiamo delle cambiate multiple, sono importanti per simulare una situazione di cambiata un po' eruente, e sempre con estrema delicatezza, ma oramai regolato bene, verifichiamo anche il fine corsa superiore e il fine corsa inferiore. Bom, abbiamo finito. Cosa fare però se, nonostante la pazienza e tutta l'edizione che possiamo metterci, non riusciamo comunque a trovare una quadra alla nostra regolazione? Beh, le cause a questo punto potrebbero essere diverse, non imputabili solo a un discorso di regolazione, ma imputabili ad altri fattori. In primis, una causa potrebbe essere il cambio storto. Se il cambio è storto, non riusciremo mai ad ottenere una cambiata precisa su tutta la gamma di rapporti. Seconda causa del problema del non riuscire a regolare il cambio è il forcellino storto, che va verificato magari con la Dima, perché ad occhio nudo non ci siamo resi conto che non è perfettamente allineato. Terza causa, cavi e guaine vecchi. Cavi e guaine vecchi su Shimano sono spesso un problema, poiché se non c'è una buona scorrevolezza del cavo, la cambiata risente tantissimo di precisione, soprattutto con la frizione inserita. Quanto fattore che può comportare problemi? L'usura della trasmissione. Avere una trasmissione usurata o comunque anche solo sporca può determinare problemi nell'energolazione del cambio, quindi verificate l'usura della catena se oltre fuori tolleranza il problema nel non avere una cambiata precisa è spesso imputabile proprio all'usura della catena. Quinto, e lo metto per ultimo perché è un po' meno frequente, ma in realtà non capita così di rado, possono essere problemi al meccanismo di frizione Shadow Plus. Shimano e soprattutto se ha un po' di annetti e soprattutto se avete la cattiva abitudine di lavare la bici con l'idropulitrice o girate in condizioni particolarmente bagnate e fangose, la frizione può bloccarsi, ossidarsi, capita sovente e che cosa succede? La gabbia del cambio non riesce a rientrare facilmente e quindi si ha una cattiva tensionatura della catena e questo comporta poi naturalmente problemi di cambiata. Sesto problema, ma questo ve l'ho già detto all'inizio del video potrebbe essere una cattiva regolazione della lunghezza della catena. La lunghezza della catena su tutte le trasmissioni moderne 12 velocità è critica. Se la catena è misurata e di una lunghezza sbagliata la trasmissione funzionerà male, punto. Quindi prima di partire, prima di regolare una qualsiasi trasmissione o se avete dubbi che non riuscite a sistemarla, verificate sempre la corretta lunghezza catena. Non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento settimana prossima e vi ricordo che se mi volete venire a trovare mi trovate sempre qui a Torino da Bike Lab, Strada della Pronda 39 e per il resto se volete continuare la visione qui e qui trovate interessanti contenuti correlati. Altrimenti un saluto a tutti ed appuntamento a settimana prossima.